Per quello che riguarda il futuro ovviamente ci muoviamo in base a quello che dovremo affrontare. Per come la vedo io, io credo che la soluzione siano sempre i controlli. Penso che continuino ad essere utili i tamponi, penso che continuino ad essere utili le mascherine. Il modello di privazione delle libertà che noi abbiamo conosciuto in passato non mi è parso così efficace. E credo che lo dimostri bene il caso cinese, credo che lo dimostri molto bene quello che è accaduto in Cina. Per cui la mia idea è che si debba lavorare prioritariamente sulla responsabilità dei cittadini piuttosto che sulla coercizione, come ho detto in passato che a mio avviso andava fatto e come intendo fare in futuro. Fermo restando che oggi la situazione, da quello che mi dice il Ministro della Salute, in Italia è abbastanza sotto controllo.